Dopo aver attraversato mari, fiumi e montagne, i nostri eroi sono finalmente giunti a destinazione, consapevoli del fatto che questa sarebbe stata la loro ultima avventura. Presero così il coraggio a due mani e si lanciarono alla volta della Lega. Con serietà. Circa. Quenno! Quenno! Raggiò poi Dark! Strada Montana. Biancocco. Sì. 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 Merda, 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 merda. Ma quella regione a me sembrava leggermente ove. No! Benvenuto sfidante, io sono reccia! L'ultimo? L'ultimo dei Super 4. Ma veramente sei il primo? Ma veramente sei il primo? Oh, giusto! Ma sono il più potente però! Ora vedrai conto su di te, vai Poliwee. The Lars, buongiorno. Io vado 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 vado! Ma sta cosa di fare il fristone? Sì? Da dove viene? Hai visto che il canale è un fake, eh? Giva Sander, non Giva Sander l'originale. Ah! Ah! Colpo basso! Come scusi! Che team di merda sto guardando? Wow, molto difficile la Lega, mi dicono. E vabbè, sai, non sanno argomentare, dicono solo ruspe, ruspe, cazzarli immigrati e poi hanno aspetto sbagliato il Lega. Esatto. Vai, Flavio, cosa volevi dire? Quel Kingler? Eh. Come cazzo faceva? Vabbè. In prison. Volava. No, ma come? Che gente di... Sì. Che è Andreotti? E va bene, dai. Procedi verso la porta del campione. Ma veramente ora c'è il secondo Super 4? Ma te ne vado a fatto? Oh, ma sì. Cosa stava guardando? Oddio, questo qua è quello col Pokemon. Ah, 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 ah. Sono Matteo. Matteo. Matteo Renzi. Matteo Renzi. FICO RENZI. E' anche drogato. Dicevo, mi chiamo Matteo e sono il secondo dei Super... Matteo è la Lega. Esatto. Salvini era lì che l'anno. Sono il secondo dei Super 4. Non ci sarà facile battere. Per parte di essere polverizzato con la ruspe. Polvere. L'avevo detto io. Vibrava. E no? Invece. Vi ammazzo entrambi per queste battute, però. Porco. Così vuole una farci vedere ste merda. Sta zitto. Si, vuole bene. Con uomini? Con piedi. E' un po'. Oddio. Avec le pie. Avec le pompe. E donne. Vero, me lo dici, eh. Come hai fatto a battere me? Uno dei più forti Super 4 degli ultimi secoli. Ma guardami. Vibro tutto dalla rabbia. Vibro tutto. Vibro tutto dalla rabbia. Flavio. Flavio. Penso sia quel famoso... Quello dei mister. E se vedrai. Ai 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 ai. Il Mao. Il Mao. e poi sono una donna perché large large non è messo così male da comparire un hack di merda e invece no la prima gene bella guardalo guarda la bellezza è un fallone e si è aperto ma qui ne hai vinto tu ah ok allora c'è la prossima stanza ma tutti fatti in questa lega ma che ne so a me dai c'è la salvi il po' della polverina questo qua che fa ea 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 siamo adesso siamo al quarto si ok e torna qua infame vedi che scappa e nessuno vuole fare sta merda super tani l'ultimo super 4 solo che hai faticato tanto per avere la conchi qui perciò mi prendo qualcosa da mangiare aspetta che mangio anch'io ma di certo non sarò più buono per questo motivo ma è buono come questi nutella la b ea ea disposto esatto non ci pagano per dirlo eh ma sono buoni effettivamente oh sono il campione ma quella è superman adorabile è andato no me ne sarei andato anch'io dopo questo eh però no 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 oh è hum oh oh ah ma c'è ancora ma sono andato prendendo da mangiare ah ma dirlo prima vabbè ha detto vabbè ha detto vabbè ha detto cristo ahahah ahahah oh mio dio brutto ground eh eh ahahah ok tu sei l'ora che ci ha salvato questa regione è andata al cry lo faceva il suo campione yeah 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 eh si e sai ma yeah non mettere mai più i Gowerplay in MLG mai più quello di John Cena fa bene però e invece quelli sono i Gowerationplay dai ci siamo? no io ne vado ciao no ma ma quello chi cazzo dotta scappa finchè puoi bene Halp giusto piacere no ci sono due pavimenti diversi il nome Luigi sono un campione mi sorprende che un ragazzo giovane come te sia stato in grado oh un congiuntivo eh thanks to be Weezy daaaah io d'altronde 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 ma come dimmi vattene a fanculo anche tu condivido dovrei fare attenzione bene iniziamo schermo luce perché c'era un schermo luce che cazzo sto guardando enti si brucia ma certo un nome c'è ora ma come lo batto sto coso a 10 con super zanna aia quanto toglie aia sai che ti farà fuori si ma non di merda ma non di merda yes garchomp ok ciao no ragone 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 è vero che qua non esisteva close combat aia no non devo perdere adesso e invece ciao piedi ma mica rivitalizzante max no vero c'è un cazzo c'è un maxxer elixir perchè non l'hai usato su piedi brutto dao ma mi sa che perto si provamelo ciao no vuoi sculare ancora se credi nel cuore carlo nel cuore di che non lo so volevo no no ma mi evitava schifo ok te lo so stiamo giocando a questa merda yes tu puoi farlo cazzo ma ti dice proprio eh c'hai brillo c'hai assorbimento si è al 30 brillo si hai ragione non lo penso anche faccio il culo faccio il culo faccio il culo ma fa culo lui fa il cretino con l'hack e faccio il cretino con i suoi poker ok addio e invece e sei anche a pj eh due volte ed anche grittato tre volte confus ti è anche confuso ti sta bene azzitto un attimo usagli i full heal è bellissimo è bellissimo davvero dobbiamo stare qui altri vent'anni è probabile mi spiace per voi dai che palermo è un gioco di merda abbiamo finito dopo questa che cazzo testata tentenna brutto colpo brutto colpo muori tentenna no io ho già danza io ho danza cosa sei lugu e invert cold aia finisci no avrà messo il quattro minimo io uso per sicurezza su dark cry l'ultimo rivitalizzato no ah i save state non ti serve puoi sculare l'idoggi dai gli faccio con la loro difesa speciale con il cranocchio eh sarebbe morire in teoria in teoria oh è morto ditto è davvero l'ultimo rip iper rosa ditto con cosa non lo so ma è la cosa più bella che io abbia mai visto si io il campione è battuto in questo modo finito? si se ne cazzo sta zitta tu fammi andare nella sala d'onore che la finia via del co... vuoi aiutare o no? no oh mio dio ma quel fuoco cosa? naga qui dove per millenni si sono orati più famosi campioni di guerra e a cazzo nel 3000 avanti cristo esisteva già la tecnologia? oh dio certo piedi charm entai ma festeggio brillo zeffolo e carl carl i sei deficienti che ci hanno accompagnato in questa avventura a parte l'altro che abbiamo tolto prima chi se ne frega si non è servito a niente guarda guarda il campione della lega complimenti ora c'è sputte nell'uspe che vuoi volo? volo? guarda come faccio sai che per poco ti sputavo? no no Paco è brumotti stavi salendo sul coso mio dio diciamo si ma questi cosi orribili ci dobbiamo assorbire dai fammi arrivare alla città di merda su dai si cazzo si ci siamo quasi dai dai ma rincazziamo alla fondazione del braille signori grazie mille per averci supportato in questa serie e morite tutti già perchè sarà l'ultima volta che faremo una roba del genere vi uccideremo vi resusciteremo e poi vi uccideremo di nuovo ciao sayonara mi vuol ciao